Sì, abbiamo di fronte una misura ingiusta ed assurda, si vogliono reperire 300 milioni di euro per la manutenzione delle strade dell'ANAS, si potrebbe fare diversamente, tra l'altro una parte dei proventi delle multe sulle strade dell'ANAS vanno all'ANAS e si utilizzino quello oppure si utilizzano le risorse delle frequenze che si mettono a gara e che vengono liberate dal digitale terrestre. Ora, già la manovra ha tagliato 6 miliardi ai pendolari, di nuovo questo balzello sui pendolari sacrifica un mondo che non è protetto da nessuno. L'accordo anulare, Salerno-Reggio Calabria e anche la Roma-Fiumicino insieme a tante altre tratte sono davvero un'assurdità, un'ingiustizia e noi ci batteremo perché domani il nostro emendamento si è approvato dall'Aula.